Sono stati resi noti i nomi per le cariche di capo dipartimento alla regione Abruzzo. Luciano D'Alfonso rivoluziona ancora una volta l'assetto del suo governo. Regione facile, regione veloce, regione sempre in movimento. E così, una volta usciti nomi e ruoli, qualcuno storce già il naso. L'accusa è quella di aver speso una nomina di troppo. Troppo rispetto all'annunciato numero di dipartimenti. Non più sei, come annunciato, ma sette. Sono i dichiaratori di esistenza in vita che fanno sempre bene. La legge parla dei componenti dell'aggiunta. I componenti dell'aggiunta sono sette, sei assessori più il presidente. Adesso l'interesse per i calzini dei guardialini non so quanto valga. Quello che serve è l'azione, la realizzazione, la produzione normativa e amministrativa. E di questo noi siamo garanti nei confronti degli abruzzesi. La mia ambizione è che a cominciare dal gennaio del 2015 ricomincino le imprese ad investire. Per questo la regione deve essere una funzione. E poi le scelte. A sorprendere la nomina della superdirettrice della regione Abruzzo. E qualche nome che ritorna dal passato, come quello del comandante della Municipale dell'Aquila, ex comandante di Pescar ai tempi di D'Alfonso Sindaco. Nasce il direttore generale della regione, che è l'avvocatessa Cristina Gerardis. E poi ci sono tanti capitani di decisione nelle postazioni che la regione merita. Io ho preso in mano una serie di candidature. Tra queste, sentitomi con i miei più stretti collaboratori, abbiamo selezionato quelli che hanno per percorso curriculare e per motivazione, soprattutto perché il curriculum racconta il 49%. Poi ci vuole la motivazione. E anche quello che emerge rispetto al grande panorama dei problemi che noi dobbiamo vincere. Ecco com'è nata questa squadra.